allora spacca i pt speriamo che non spacca le corne che se ne frega se spacca i pt attenzione discesa pericolosa stavo a un posto io già mi cagavo sotto prima di legge il cartello figure da adesso speriamo bene e no torno indietro e che cazzo a presto questa feta questa feta di rompimento di corna la feta di corna questa è brutta per i sassi se non ci fossero i sassi non sarebbe neanche tanto male la feta di corna 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 l'ultimo devo ancora incrociere un altro incrocio della postazione marscia io non penso che sia possibile fare questo trail più lento di come lo faccio io allora se lo vuoi fa più lento scendi vai a piedi su dritti dritti ecco che sembrose dell'etreco fatto stamattina questa è la più bruttarella ma sai perché? per i sassi ci stavano sassi a me i sassi non mi piace mi piace ancora meno dei salti allora il vettuccino è stato da qua andiamo da qua e invece in realtà colpiamo la sola questo che ce l'ha messo a fare questo non mi dirai che ce l'ha messo a posto eh dai non ci credo che ce l'hai messo a posto su metta un po' qua fammelo togliere questo no il tronco proprio sulla curva ci credo poco dai ecco qua ecco qua se no qua ci sembra una città un po' rosa allora allora io non capisco questa frecetta che vuol dire io non capisco questa frecetta che vuol dire ma io non capisco questa frecetta che vuol dire la mia ignoranza è abbessare ecco ecco in compropendenza bella è una madonna chi lo fa questo sti cazzi lo faccio io francamente bella pietraia non mi sassi che c'è non ho capito perché si chiama spaccapiti ecco i gradini che bello ecco eccoci qua ha detto che era la discesa pericolosa non è che non l'aveva detto eccoci qua 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 ecco qui c'è il cartello a sinistra che vorrei dire che devo andare a sinistra Sì Sì Sfangono Tu starò